ciao a tutti ragazzi sono tutti e benvenuti in questa nuova reaction allora oggi sono a star wars ragazzi mamma mia che le action mamma mia pubblicità 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 via ok ci sono a star wars ragazzi che uscirà a dicembre quindi mandare il chance non c'erano quando c'erano le bande via o qualche trailer messo da parte giallo un po che ce l'ho lì era lì e non vuole acquistarsi quindi perché non faccio la riuscire adesso io non me ne intendo di servire dico subito ve lo dico subito se vuoi sicuramente più di me ne intenderete dovrebbe uscire al cinema personaggi a me sconosciuti non so nemmeno l'altra ma ragazzi non c'è nulla ops ma è pericoloso tanto la grafica sembra molto promettente ah no wow è un raggio laser quello sì che ricerca bellissimo ma sembra molto interessante ragazzi se non era non c'è non c'è anche il gioco dovrebbe essere c'è anche il gioco non mi sbaglio non c'è anche il gioco wow ragazzi fantastico mi verrà molto ehi 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 stoppati ragazzi ho altri trailer spiegando tra poco eccomi eccomi tornato questo è il secondo trailer ne ho ancora tre due ma basta pubblicità perché non va ok comincia così questo è il numero due ha detto spero di fare tutto giusto perché altrimenti è un problema è che però molto interessante wow anche la grafica cos'era quello non è un ragione non è un ragione dite senza parole questa è la parte che abbiamo visto prima non l'abbiamo cambiato wow, bello bello, bello bello ok, direi che abbiamo visto tutto manca poco altra foto eccomi tornato eccomi tornato un nuovo trailer un nuovo trailer spero che sia tutto di seguito e l'ho trovato a casa wow no, mi piace troppo veramente molto interessante e particolare ragazzi, vi intenderete sicuramente più di me io non mi amo non siamo soli non vi capire non vi capire non vi capire ma non è così ok ok colpo di scena colpo di scena telefono, telefono e ora non è così dentro essere venuti insieme c'è ragazzi mi perdono po' che vederli guarda che è il filo dicembre manca manca veramente poco anche perché morenda è appena iniziata maura come sono quasi tutti gli altri mesi dell'anno interessante questo personaggio userà la roba wow quasi un po' meno quasi un po' meno bello 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 star wars ragazzi ci vediamo tra poco con l'ultimo trailer eccomi eccomi qua un altro trailer ma cos'è la storia ma cos'è sta cosa ma è uno scherzo nooo non ho parole ragazzi non ho parole martedì non ho parole questo qui no bellissimo questo qui è un troll è un troll giuro cinque secondi mi va troppo ridere niente ragazzi non ho più niente mi aspettavo adesso un pochettino in più sta cosa invece no cinque secondi di trailer boh chi è che la non lo so non ho parole questo è stato veramente c'è trollato malissimo dai se lo sapevo lo mettevo all'inizio così almeno la festa è finita però vabbè è il bello della rietta divertente anche tra l'altro ci sono rimasto malissimo credetemi ci sono rimasto troppo male vabbè niente dato questo è tutto io io me ne vado che figlio di merda io me ne vado al prossimo ragazzi ciao 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 ciao